Dal 1919 al 2022 passano 103 anni, quando storie e tradizione si scontrano con il nuovo, lo scenario è ignoto. In campo oggi due squadre che sembrano l'opposto, ma in realtà per obiettivi e ambizione sono molto simili. Tutto questo è tra Stevere e Roma City, un buon pomeriggio appassionati di calcio da Emanuele Colombo. In morbido, in mezzo, prova a svettare tra due e Raffini, poi si appoggia, arriva la chiusura in scivolata, ancora il tiro da fuori, prova la prima vera e propria fiammata. Diventano 5, parte il tiro a giro sul primo palo, è un 2 contro 1, adesso rientrano i giocatori del Trastevere, devono farlo in fretta, attraversone la chiusura di Sadek. Pallone, attenzione però Alonzi ancora, se la ritrova lì, fortunato anche Alonzi calcia la respinta di De Feo. In verticale, buona la chiusura di Giordani, poi vince anche un contrasto molto vigoroso, Bertoldi se la sistema, filtrante per Giordani, che si prende il fondo, mette in mezzo il cross, deviazione forse, salvataggio ancora della retroguardia arancio. Anticipo l'ennesimo di questa partita che sta costruendo, palla buona intanto per il Trastevere con Bertoldi, entra in area di rigore, Bertoldi arriva al fischio, visto dal direttore di gara, attenzione, intanto è a terra Bertoldi. Arriva il cartellino rosso ai danni di Alex Gagliardini. La rincorsa di Alonzi, incrocia, tocca De Feo, il primo gol stagionale del Trastevere in campionato, porta la firma di Federico Alonzi che va a esultare sotto i propri tifosi. Bertoldi è pronto, alza il braccio per lo schema, De Feo non benissimo in uscita, poi colpo di testa, il pallone salvato sulla linea, no, c'è il gol, il gol del Trastevere, il raddoppio, porta la firma di Valerio Giordani che ha staccato, ci poteva forse anche essere un fallo. Daniele Crescenzo, Berardi, gioco a tre, che si chiude con il pallone arrivato a Laurenzi, salta un avversario in area di rigore, Laurenzi va giù, tamponato da Zoppi, segnala di nuovo un calcio di rigore il direttore di gara. Il destro di Tortolano, incrocia anche lui, rigore quasi in fotocopia di quello di Alonzi, Calaltrissi, il Trastevere. Ed allenatore fresco dell'esperienza al Grosseto, Tortolano ha messo giù benissimo il pallone, con la finta, di nuovo sul mancino, Tortolano incrocia. Gioca per Tortolano, supera la linea di metacampo il Trastevere, da Brio alla manovra a Tortolano, sterzata col tacco, poi pallone in mezzo, Bertoldi, limite dell'area, Alonzi, rientra col destro Alonzi, piazzato. Manovra con la suola, poi lascia lì un pallone, sbagliando tantissimo, rischiando di aprire uno scenario in favore della Roma City. Carta dalla bandierina, cross col mancino, il trattore ad uscire, colpo di testa e poi non ci arriva sulla deviazione Sadek. Si può riprendere a giocare, Cabella, trattore profonda al colpo di testa, ad accorciare le distanze per la Roma City, non può farci nulla Semprini, Calderoni. Berardi sbaglia con il tocco in verticale, possibilità per la Roma City, con il pallone giocato sulla destra, Semprini esce, copre la porta ma sbaglia. Montesi in la partita, arriva adesso il triplice fischio di Caruso, il Trastevere inizia in maniera perfetta il proprio campionato. 3-1 alla Roma City, primi tre punti della stagione, le reti di Alonzi, Giordani e Tortolano regalano il primo successo sulla panchina dei Trasteverini a Franco Cioci.